Davide Alessio e Rai, Allegri poco fa ha detto che hai passato un periodo infernale e che sei stato molto bravo a tenere il punto e essere qui oggi, oggi ti ripeto. Sì, è stato un periodo molto difficile nella mia vita, professionista, sono molto felice con questa opportunità, non aspettavo di giocare tanto così, perché hanno detto di giocare 20-30 minuti, ma ho fatto bene, sono contento. Anche volevo ringraziare tutti i staff della Juve, tutti i fisioterapisti, anche il mio personale, perché lui è stato bravo con me, è stato insieme e ringrazio tutta la Juve per il lavoro. Qual è stato il momento più difficile? Tutti, dopo che sono fortunato è stato per me molto difficile, ho avuto una testa, una pazienza incredibile e non tengo la fè che questo è più importante. Senti, ora che hai recuperato l'importo, dove ti vedi nel futuro prossimo, in questa stagione? Io mi vedo felice, mi vedo qua, aspetto il dirigente, il direttore a risolvere questo, sono pronto per aiutare i miei compagnieri di squadra e vediamo cosa succede. C'è qualcuno in questo periodo, nella Juventus, che è stato più vicino, qualche giocatore, qualche consiglio, qualche parola che vede tutto più dentro di te? Tutti sono stati bravissimi, mi hanno aiutato tanto, Danilo, altri calciatori, Alex, tutti brasiliani, ma anche italiani mi hanno aiutato molto. Come ti senti adesso? Hai recuperato perfettamente l'importo? Sì, mi sento bene, ma lo so che manca un po' di ritmo, un po' di partite ancora, ma i ginocchi sono bene e sono contento. Pensi che un anno con l'Under-23 possa farti bene? Non lo so ancora, devo aspettare e vedere cosa succede. Grazie. Grazie a voi.